buona giornata e buona domenica spero tutto bene che questo weekend proceda all'insegna del ridossamento totale dei pensieri più belli dei momenti migliori che possiate vivere ovunque in qualunque situazione voi siate oggi domenica non tutti vanno messa io per primo questa mattina ho bigiato ma ho voglia di spendere un po di tempo con voi per riflettere per così oggi voglio divertirmi a proporre la mia piccola predica domenicale e voglio iniziare con un canto liberatorio Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare questo è un po' è uno spunto di maha mantra che i devoti di Krishna cantano è un canto bello gioioso e se lo canti tante volte effettivamente ti viene voglia di cantarlo di tanto in tanto non sono ancora giunto alla conclusione premetto di diventare devoto di Krishna e non so nemmeno se giungerò a questa conclusione certo che come metodologia mi affascina davvero tanto devo dire invece da bravi cattolici continuiamo a osservare Gesù in croce e a piangere su questa croce dovremmo invece piangere su un'altra cosa più che sulla croce di Gesù dovremmo prendere la croce di Gesù e cominciare a guardarla in un modo completamente diverso da come ci insegnano a guardarla dovremmo guardare la croce di Gesù con molto più rammarico di come si fa prendendo in considerazione un dato di fatto che dal punto di vista spirituali siamo ancora ignoranti tanto quanto coloro che l'hanno croce fisso immaginate se Gesù dovesse ridiscendere sulla terra non durerebbe sicuramente più 33 anni anche perché sarebbe un bel problema per berlusconi concedetemi la battuta non può dargli del comunista i comunisti non potrebbero dargli del fascista o comunque del personaggio di destra diventerebbe davvero un bel problema ma soprattutto che fine farebbe la coscienza dei nostri bravi politici lo farebbero fuori men che non si dica certo non lo crocefiggeremo più per l'amor di dio ci sono altri metodi oggigiorno e sicuramente non si troverebbe nemmeno più il colpevole quindi bisognerebbe osservare la croce da questo punto di vista siamo noi sulla croce non siamo su una croce di legno su una croce chiodata ma siamo su una croce di pura ignoranza di puro materialismo siamo manipolati da questa croce ecco qual è la nostra vera croce quindi invece di accostarsi ogni domenica e dire ho peccato perdona i miei peccati che sono stati dati magari esclusivamente perché ho disinibito alcuni miei freni inibitori scusate il gioco di parole ma credo che sia comunque perfettamente chiaro chiediamo invece scusa se in questa settimana non ho fatto nulla per evolvermi spiritualmente scusa se non ho ricercato nella mia personalità nella mia anima scusa se ho preferito navigare nella mia beata ignoranza questa credo sia l'osservazione giusta da fare perché siamo sempre qui se io evolvo posso migliorare se io non evolvo non posso migliorare posso chiedere un perdono finto posso metterci una pezza la pezza prima o poi si consuma allora io non devo mettere una pezza su quello che ho fatto devo cercare devo sforzarmi non sarà facile riuscire ma di mettere un tessuto nuovo di rinnovarmi perché sarà solo di fronte al mio rinnovamento al mio arricchimento alla mia crescita che io non commetterò più gli errori in precedenza commessi se voi studiate se voi andate a scuola se voi imparate un lavoro sicuramente farete molti sbagli ma se continuerete a dire al vostro datore di lavoro al vostro insegnante al vostro maestro scusa ho sbagliato non apprendendo nulla continuerete a sbagliare non sbaglierete più nel momento in cui aprirete la vostra mente all'ascolto di chi vi sta insegnando e imparerete qualcosa ecco quando non sbaglierete più non certo continuando a chiedere scusa vorrei lasciarvi così e invitarvi come al solito alla vostra riflessione personale vi auguro buona domenica vi ricordo l'indirizzo email nel caso volete scrivere evolutore chiocciola gmail.com è tutto per oggi buona giornata buone cose a tutti